Prima che inizia il video, ragazzi sotto nei commenti ditemi cosa avete pensato di questa nuova stazione col mio canale qui dietro Tocca E ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Ormai ho preso a vizio di stare alzato a fare video in piedi Comunque ragazzi, come vi avete potuto leggere dal titolo, oggi siamo qui con un aggiornamento sul canale Come avrete visto ormai da dietro dal mio profilo il banner è cambiato, come vedete questo qui è più bello, oggi ho fatto più a tema scuro, cioè in realtà non è che ho fatto Ho un carissimo amico che davvero dico grazie, che si chiama Alessandro, vi lascio il link in descrizione del suo profilo di Instagram, vi consiglio di andarlo a seguire che è un mito con Photoshop, anche lui è bravissimo a fare video Comunque mi sta andando una mano con queste cose, per creare il banner, creare la foto di profilo e inoltre come avete visto la intro del video precedente, quello lì in cui vi dico grazie Quella intro me l'ha creata lui, quindi ragazzi c'è qualcosa di... Spero che questi aggiornamenti, spero che questi nuovi tipi di banner, di foto profilo, intro possano più piacere ai miei iscritti E ditemi sotto nei commenti appunto cosa ne pensate di questi nuovi oggettini qui, questi nuovi banner, questo nuovo fotografilo E inoltre volevo, questo qui sarà un video breve come avete visto comunque Volevo dirvi, se avete delle domande scrivetemi sotto nei commenti oppure scrivetemi in direct su Instagram e io vi risponderò in un prossimo video Faremo una specie di fact time, così in un prossimo video io vi risponderò Mentre ragazzi, questo qui è un video breve giusto per dirvi che ci saranno alcuni cambiamenti del canale in futuro Spero che porteranno sempre a meglio, che mi faranno salire gli iscritti E niente ragazzi, mi raccomando, cliccate qui vedete, iscriviti, lasciate un bel like sotto ai miei videozzi E beh ragazzi, bella Io sono dimenticato di dirvi che vi lascio anche i miei link in descrizione del mio profilo Instagram Cioè vi ho detto quello di Alessandro e il mio no, cioè quindi ragazzi Se avete delle domande, link in descrizione, cliccate sul mio profilo, mettete il segui se volete Vabbè, io lo apprezzo, o se volete da me Fatemi delle domande e io vi risponderò in un prossimo video Ciao ragazzi, ciao